Gambellara. È stato trovato esanime con una profonda ferita alla testa e immediatamente è stato allertato il suo M118, ma quando è arrivato il medico non ha potuto far altro che constatarne la morte. La vittima è un agricoltore di 66 anni. Secondo le ricostruzioni sarebbe scivolato e avrebbe battuto la testa contro un sasso. Insomma, un incidente finito in tragedia è accaduto in una zona isolata, sui colli in zona Monte di Mezzo, dove la vittima aveva un terreno di proprietà che coltivava. A trovarlo il cugino che ha provato a dargli soccorso senza però riuscire a rianimarlo.